Grazie a una donazione della Fondazione dell'Ospedale di Cuneo, la medicina interna ha in dotazione tre sonde ecografiche wireless, permettendo molte volte un approfondimento e quindi passare subito dopo l'ipotesi diagnostica ad esami di secondo livello se questi indicati, TAC, risonanza magnetica. Un elemento fondamentale per la formazione degli specializzanti in quanto l'ecografia al letto del malato, la cosiddetta ecografia bedside, sicuramente uno strumento utilissimo per l'internista del terzo millennio e rappresenta un elemento imprescindibile per una valutazione efficiente del paziente internistico complesso. Flessibile, comodo, rapido e che consente di fare delle valutazioni in tempi contenuti e decidere sulla base di queste valutazioni le strategie migliori da adottare. Questo abbrevia per il paziente la degenza, aumenta quindi un'efficacia clinica nel confronto di quella che è la malattia che ha determinato il ricovero, ma fra virgolette libera anche dei posti per altri pazienti, interni o esterni.